bianca bentornati sul canale di seppici a carina per uno speciale un corto e al volo dove andremo a vedere una novità introdotta con la patch 1.28 sull'official e praticamente cosa ci è stato dato diciamo in regalo praticamente con la collaborazione di dei due giochi della lilith afkarina e rise of kingdoms praticamente è uscito questo evento dove possiamo ottenere la corona del faraone e le ali di tasi come icone del nostro account è una cosa prettamente estetica però insomma abbastanza carina anche perché la cornice di partenza fa vomitare quindi insomma piuttosto magari che scambiare 100 milioni di caramelle di halloween come era stato richiesto per prendere quella fighissima cornice da halloween insomma ce ne regalano un paio e questo è niente male ma come fare per ottenerle prima di partire vi ricordo di scrivervi al canale di attivare la campanellina per essere sempre sul pezzo con le uscite di nuovi video come oggi questo speciale al volo che è un po fuori programmazione però insomma mi sembra doveroso farlo uscire prima possibile praticamente per ottenere la corona del faraone cosa bisogna fare nelle regole dell'evento ci spiega che bisogna ottenere 100 punti attività per riscattarla i 100 punti attività si intendono i 100 punti giornalieri facendo tutte le quest necessarie per arrivare a 100 punti andremo a riscattare il primo la prima icona e la prima cornice scusatemi e dopo riproduciamo il video che è la praticamente 30 secondi di pubblicità di rise of kingdoms che tra l'altro sono abbastanza sicuro che basti premere sul pulsante e non stare a guardar solo tutto se uno non vuole stare a perdere tempo a quel punto sbloccheremo il secondo la seconda cornice che è molto più fregna anche se un po ecco da sbuccia banale però come vedete per poterlo ottenere bisogna scaricare rise of kingdoms e usare il codice di discussione questo codice pz 3 w 3 r g h g d per poter ottenere le ali di tasi a questo punto la cosa è fatta ecco abbiamo ottenuto entrambe le cornici e fine finisce qui l'evento free to play che insomma comunque alla fine non ci dispiace per nulla anche se come vedete insomma poi arriva nella posta la spiegazione di come ottenere le ali di tasi e quello che purtroppo mi duole dirvi è che le ali di tasi sono sulla cornice cioè sono la cornice del crossover c'è del dell'altro gioco e onestamente le avrei preferite qui su afkarina però insomma non si può avere tutto è gratuito ci ci accontenteremo di questa qua quindi concludiamo qua io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e vi ricordo stasera esce una nuova top five creiamo un pochino d'aip una nuova top five sui dps con tutti gli aggiornamenti sul sui miglioramenti dell'attrezzatura del canale che non vi sto a spiegare adesso perché questo video deve essere un flash video quindi noi ci vediamo stasera vi ringrazio di aver visualizzato questo video bella io sono seppici e ci vediamo stasera